Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. Dopo quasi un decennio dall'incidente sugli sci che ha drammaticamente colpito Michael Schumacher sulle Alpi Francesi, le preoccupazioni per la sua salute persistono. Nuovi dettagli sull'incidente hanno recentemente attirato l'attenzione sulle circostanze tragiche. Rispettando la scelta di Corinna di mantenere riservate le condizioni di salute di Schumacher, il manager Willie Weber ha espresso il suo ramarico per non aver potuto visitare l'ex pilota in ospedale dopo l'incidente. John Todd, ex responsabile della Ferrari, ha sottolineato che, nonostante la presenza fisica di Schumacher, egli non è più la stessa persona di un tempo. Todd ha elogiato la guida magnifica di Corinna e dei figli nel prendersi cura di Michael, adattandosi alla sua nuova realtà. A dieci anni dall'incidente, emergono riflessioni malinconiche e l'accettazione di una realtà diversa, mentre coloro che sono vicini a Schumacher continuano a sostenerlo nel suo percorso di vita modificato.